A questo webinar potete utilizzare la chat per porre domande ai relatori. Prevediamo un paio di sessioni di domande e risposte, orientativamente una verso metà dell'esposizione di Massimo e una seconda a fine webinar, pochi minuti prima della fine, che vi ricordo è prevista per le 13.30. Potete utilizzare la chat anche per segnalarci eventuali problemi tecnici, purtroppo potrebbero esserci e i colleghi Alessa, Gianluca e Livio vi daranno tutto il supporto per aiutarvi a risolverli. Intanto posso accennarvi che spesso è sufficiente uscire dall'aula per poi rientrare e questo a volte risolve il problema di audio o di visualizzazione delle slide. Detto questo, altre informazioni operative. Siamo arrivati intanto a 100 partecipanti. Innanzitutto, la registrazione del webinar e i materiali che verranno presentati nel corso del webinar saranno disponibili già al termine del webinar stesso su EventiTA, alla pagina dedicata a questo webinar. Mentre l'attestato di partecipazione lo potrete scaricare a partire da domani, sempre da EventiTA, dopo aver compilato il questionario di gradimento. Ovviamente vi invitiamo a compilare perché ci è molto utile, soprattutto per le prossime attività. Vi dicevo, come sapete, questo webinar è il primo di un ciclo di tre webinar a cui abbiamo dato il titolo Etica delle scelte pubbliche. Oggi ci occupiamo di come costruire un clima etico, in particolare di quali sono le qualità di un'organizzazione per costruire un clima etico. E in cui il massimo ci esporrà queste sette qualità. Nel corso invece del prossimo appuntamento, che è previsto per il 24 giugno, ci occuperemo di una di queste qualità, la cosiddetta leadership etica. Il primo luglio invece ci occuperemo della formazione valoriale, come raccorsare quindi lo spazio etico dei dipendenti pubblici. Questi sono dunque i prossimi appuntamenti, previsti per ogni martedì. Quindi in queste tre settimane un appuntamento fisso il martedì con noi del gruppo Integrità. Buongiorno a tutti. Allora, 113 partecipanti, vi do qualche altra informazione al riguardo e poi lascerei la parola a Patrizia Stifano e a Massimo Di Renzo. Questo ciclo di webinar è organizzato nell'ambito del progetto WPPA e in particolare delle attività della comunità di pratica e integrità. Abbiamo aperto questa comunità su Innovatori PIA. Per chi di voi non si è ancora iscritto, è possibile iscriversi accedendo a Innovatori PIA con l'account che avete usato anche per iscrivervi a questo evento, quello di Formatout. Quindi è sufficiente autenticarsi e poi cliccare a questo indirizzo Innovatori PIA.it slash groups slash integrità cliccando sul bottone Partecipa. In questo modo potrete attivamente partecipare alla comunità di cui adesso Patrizia brevemente vi illustrerà le attività. Intanto vediamo se ci sono altri partecipanti, stanno entrando altri partecipanti. Direi che se Patrizia è d'accordo io mi taccio e lascio la parola a lei. Grazie Paola, buongiorno a tutti. Benvenuti a questo primo webinar nell'ambito del progetto WPPA nell'ambito dell'avvio di questa comunità che era già esistente, si chiamava comunità etica e trasparenza, aveva 550 iscritti prevalentemente, che è diventata una... abbiamo trasformato in comunità integrità proprio per dare modo a tutti coloro che vogliono interessarsi di temi etici all'interno della pubblica amministrazione di partecipare e di avere uno spazio di riflessione con i nostri esperti e di scambio anche tra pari all'interno dell'amministrazione. Non siamo nuovi ai webinar sull'integrità perché abbiamo visto che sono stati seguiti, molto seguiti, abbiamo avuto un grande successo all'interno di progetti che FORMES ha realizzato in particolare sui temi dell'anticorruzione. Abbiamo voluto che questa comunità avesse un'accezione positiva, l'abbiamo chiamata integrità, proprio per non fare sempre riferimento a concetti negativi come quelli di corruzione, proprio perché pensiamo che comunque contemporaneamente a tutto quello che bisogna conoscere sulle nuove norme che per prevenire e combattere la corruzione sia fondamentale spostare l'attenzione sul clima etico all'interno delle pubbliche amministrazioni. Quindi ci proponiamo con questa comunità di fare in modo che le amministrazioni possano in qualche modo partecipare e capire qual è il loro livello di clima etico, quali sono gli atteggiamenti etici e quali sono appunto le qualità che rendono in qualche modo etica una pubblica amministrazione. Vi ricordo che appunto il progetto Wikipedia si chiama Wikipedia perché in realtà tutti gli utenti della comunità possono contribuire a comporre le voci di un wiki che è proprio della pubblica amministrazione in relazione a quelli che sono gli argomenti delle singole comunità. Quindi su questo vi dico anche che c'è molta disponibilità a costruire delle voci che riguardino in qualche modo la comunità integrità. I referenti, oltre a Paola, siamo io e anche Massimo Di Rienzo, quindi io direi che lascio la parola a Massimo e questo è il primo di tre webinar come li anticipava Paola. Pensiamo che comunque non rimarranno soltanto tre, pensiamo di riproponirli anche in futuro. Ci risentiremo per i saluti finali, vi auguro un buon ascolto e vi ricordo sempre che i nostri webinar sono registrati e li potete trovare alla stessa pagina da cui vi siete iscritti su Eventi.pia. Buon ascolto e ci sentiamo più tardi. Grazie Patrizia, prendo la parola, sono Massimo Di Rienzo, vi saluto tutti, ci risentiamo dopo il 26 di maggio in cui avevamo chiuso le famose pillole di integrità e siete come al solito molto numerosi, siete circa 140 adesso. Vi chiedo semplicemente un brevissimo feedback, giusto un ok sull'audio, così possiamo poi iniziare, saluto tutti, in particolar modo i siciliani che ci facciano, con i quali abbiamo un rapporto assolutamente privilegiato. Allora, ok, pare che va tutto bene. Oggi iniziamo un ciclo di webinar che è composto da tre webinar. Io ho visto un po' la lista dei partecipanti, ho visto che molti di voi avevano già partecipato anche all'altro ciclo di webinar delle pillole di integrità e vedrete come i contenuti di questi webinar saranno piuttosto nuovi, nel senso che in questi tre webinar io ho intenzione di entrare un po' nel merito delle questioni che ponevo a livello teorico all'interno degli altri webinar. Vorrei cercare di entrare un po' in quello che noi definiamo le caratteristiche di un ambiente che permette alle persone di operare delle scelte etiche. Quando parlo di etica, ne abbiamo parlato ampiamente nell'epidolo di integrità, faccio riferimento in particolar modo alla tutela dell'interesse pubblico e alla tutela dell'immagine, della reputazione e dell'onorabilità delle pubbliche amministrazioni. Per fare un brevissimo assunto del percorso che abbiamo tracciato in questo anno e mezzo in cui trattiamo questi temi, se qualcuno ha voglia di ascoltare e riascoltare, soprattutto per quelli che non hanno partecipato alle pillole di integrità, qui c'è tutto un indice di come andare sui vecchi temi e cercare di farsi un'idea di qual è il percorso. La gestione dei dilemmi etici è una storia, soprattutto la storia del famoso ormai, ai lui, Dottor Rossi, che si trova ad assistere a una situazione presuntivamente corruttiva e non sa cosa fare e quindi inizia il suo percorso all'interno di un dilemma etico. Il dilemma etico anche per noi, vedrete, sarà al centro dei nostri discorsi. Poi c'è il ruolo della leadership, che sarà la prossima pillola, il prossimo webinar. Perché la leadership? Perché ad avviso un po' di tutta la cultura scientifica e internazionale, e anche al buon senso delle persone e quindi anche a quello che più o meno pensiamo tutti, è dalla leadership che in qualche maniera provengono tutti i segnali che vanno nella direzione di operare delle scelte etiche oppure no. La formazione valoriale è una particolare tipologia di formazione di cui parleremo nel terzo webinar. Poi c'è il whistleblowing, la trasparenza e trasparentismi, che chiudono questo ciclo di webinar e la pilota di integrità, che in qualche maniera racchiudono un po' il pensiero che c'è dietro, la teoria che c'è dietro ad un modello che ci stiamo proponendo. Oggi partiamo appunto con una questione che in qualche maniera è centrale rispetto alla costruzione di un clima etico. Perché uno potrebbe chiedersi, ma perché dobbiamo costruire un clima etico? Se ci sono già le leggi che devono essere rispettate e che in qualche maniera ci dovrebbero proteggere da fenomeni non solo corruttivi, ma fenomeni in qualche maniera più generalmente collegati alla violazione dei codici di comportamento, perché dobbiamo anche mettere in piedi un sistema di un'organizzazione interna in qualche maniera. Che cosa ci può garantire l'organizzazione interna? Intanto per rispondere a questa domanda poniamo alcune questioni di base. Da che cosa è influenzato il comportamento delle persone? Perché uno si potrebbe fare questa domanda e chiaramente sempre dal livello di buon senso si può rispondere da tantissime cose, da tantissime variabili. Ormai la questione dell'onestà delle persone… Io faccio sempre questo esempio. Noi all'interno di un'amministrazione troviamo da una parte una percentuale, io spero sempre più grande di persone che hanno delle salde posizioni etiche, cioè che nonostante l'ambiente in cui sono calate, riescono a mantenere una loro forte posizione etica dovuta soprattutto all'educazione che hanno ricevuto e da un sistema valoriale piuttosto sviluppato. All'opposto avremo una percentuale che io spero sempre minoritaria, sempre più minoritaria di soggetti che invece all'opposto si trovano in una posizione in cui non tutelano l'interesse pubblico, cioè in maniera molto chiara, stanno all'interno delle amministrazioni per tutelare interessi privati e quindi in questo senso anche persone tra virgolette corrotte in qualche maniera. Quindi abbiamo questi due estremi, uno positivo e uno negativo, ma all'interno di questi estremi abbiamo una grande percentuale di persone che in realtà non hanno ancora sviluppato una posizione etica, le chiamo le persone che sono in un atteggiamento di neutralità, allora queste persone chiaramente non avendo sviluppato posizioni etiche molto forti, ma non avendo nemmeno una situazione aperta di ostilità alla legge, diciamo così, in qualche maniera subiscono l'influenza dell'ambiente, sono le persone che noi dobbiamo cercare di tirare verso un atteggiamento etico e questo si fa proprio attraverso l'organizzazione, mettere in piedi un'organizzazione di un certo tipo. Quindi il comportamento delle persone è in qualche modo influenzato dall'ambiente, tutto il ciclo di questi webinar ci dovrebbe portare a dare una risposta positiva, è una nostra ipotesi che noi poniamo all'attenzione e cerchiamo di rispondere a questo. Quanto è determinante l'ambiente sul comportamento delle persone? Dobbiamo capire prima se l'ambiente è determinante e poi quanto è determinante. Come faremo a spiegare questo? Utilizzeremo degli esperimenti che sono stati compiuti nel corso di più di 20 o 30 anni, soprattutto nei paesi anglosassoni, ma in qualche maniera alcune cose sono state fatte anche in Italia, anche se in maniera molto sporadica, che ci aiutano a comprendere quanto è importante l'ambiente. Ora, io ve ne ho selezionati 7, ma immaginate che ce n'è una quantità piuttosto infinita. Io vi ho selezionato quelli che io ritengo più esplicativi, nel senso che a me interessa quando la ricerca mi spiega quello che io sto osservando nella realtà e quindi quando capisco che c'è un collegamento tra qualcosa che osservo e qualcosa che è stato studiato e allora quello è il momento in cui quella ricerca e quel ricercatore mi stuzzichano un interesse. Allora, in questi 7 esperimenti iniziali ci servono per capire essenzialmente questo, cioè quanto è importante l'ambiente nel fare in modo che le persone operino delle scelte etiche, cioè operino delle scelte volte alla tutela dell'interesse pubblico. Allora, il primo esperimento, così entriamo subito nella cosiddetta stimolazione cognitiva, una premessa, faremo questi 7 esperimenti e poi ci sarà un momento per le domande e risposte, quindi se voi già iniziate a scriverle, i miei colleghi con grande bravura me le metteranno in osservazione e poi proveremo a dare delle risposte. Quindi il primo esperimento è sulla stimolazione cognitiva, in particolare un ricercatore che si chiama Cialdini ha condotto una ricerca molto interessante sulla stimolazione cognitiva. Da dove proviene questa? Diciamo che è una questione legata soprattutto alle regole, voi sapete, perché immagino tutti, essendo operatori, funzionari o dirigenti della pubblica amministrazione che è uscito l'anno scorso, è stato pubblicato il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici e quindi qui anche nell'epidemia dell'integrità facciamo riferimento al fatto che per molte persone il fatto di avere questo documento e di leggerselo in qualche maniera soddisfa il criterio della chiarezza delle regole, cioè io dico c'è un codice di comportamento, in qualche maniera lo consegno a un funzionario pubblico e in questo modo io garantisco che il funzionario pubblico conosca, abbia contezza di quelle regole che sono contenute nel codice di comportamento. Però nonostante che le regole siano state pubblicate oppure si girino in qualche maniera, le persone potrebbero non esserne pienamente consapevoli, potrebbero comportarsi in maniera divergente, questo quante volte è successo? Noi sappiamo per esempio che esiste l'articolo 8 del codice di comportamento, un obbligo di prestare collaborazione responsabile della prevenzione della corruzione, ma poi spesso e volentieri ci troviamo a trovare situazioni in cui è difficile che un dipendente effettivamente, ad esempio, denunci un'irregolarità a cui ha assistito per varie ragioni, sappiamo che lì le circostanze ambientali sono molto forti. Quindi per dire che cosa? Che le regole potrebbero essere presenti nella nostra mente, ma dimenticate proprio nel momento in cui dovrebbero essere applicate, cioè tra il fatto di studiarsi una regola, leggersela, in qualche maniera anche capirla ed applicarla nel momento in cui serve che venga applicata e questa è la questione della scelta pubblica, l'etica delle scelte pubbliche, non è detto che le persone adottino quelle regole nel momento in cui effettivamente servono, è importante perciò che il loro significato latente venga attivato, c'è bisogno di un'attivazione. Vediamo come Cialdini è riuscito a dimostrare questa cosa qui, con l'esperimento di cui parliamo adesso. Cialdini si mise in testa di osservare il comportamento di alcuni utenti di una libreria in Arizona, l'esperimento funzionava così, dopo che questi utenti della libreria avevano parcheggiato l'auto in un parcheggio, i ricercatori misero un volantino sul parabrezza di ogni auto, sapete questi volantini che ogni tanto vi trovate sul parabrezza dell'auto? I volantini contenevano testi diversi, cioè non erano tutti uguali, erano 5 testi diversi, i ricercatori si chiedevano cosa avrebbero fatto gli utenti dopo aver letto i volantini, se vi piazzano un volantino sul parabrezza anche piuttosto grande, voi non potete fare a meno di leggere quello che c'è scritto. Che cosa avrebbero fatto queste persone dopo aver visto questi volantini? Li avrebbero gettati in terra in violazione di evidenti regole di comportamento, perché noi abbiamo una regola magari non tanto scritta, ma non si getta la carta per terra, questo vale per noi, vale anche per gli utenti di una libreria in Arizona. Li avrebbero quindi gettati per terra o li avrebbero presi e tenuti in macchina? La variabile è che non c'erano contenitori per l'immondizia nei paraggi, quindi le due variabili erano solamente queste, o li buttavano per terra o li avrebbero tenuti in macchina fino a che non li avrebbero buttati in qualche contenitore a loro portata di mano. Quindi questo era lo scenario dell'esperimento. Questi sono i diversi testi che erano scritti sui volantini. Il primo testo recava, aprire il mese delle belle arti, per favore ricordati di visitare il tuo museo. Come vedete è un testo piuttosto neutro rispetto all'azione che il soggetto doveva porre in esse, se gettare in terra il volantino o tenerselo in macchina. Il secondo volantino recava il testo, aprire il mese della valorizzazione del voto, per favore ricordati che il tuo voto conta. In questo caso, anche se rimane piuttosto neutro questo testo, comunque comincia a far entrare dentro qualcosa che ha a che fare con l'impegno civico. Andiamo avanti, aprire il mese del risparmio energetico, per favore spegni le luci che non ti servono. Qui cominciamo a entrare decisamente in un testo un po' meno neutro, in cui il risparmio energetico potrebbe essere associato anche a non gettare le cose per terra, a comportamenti di questo tipo. Quarto testo, aprire il mese della conservazione delle risorse naturali, per favore ricicla. E qua siamo sempre più dentro alla questione. E l'ultimo testo è quello più pertinente, aprire il mese dedicato alla bellezza, per favore non sporcare con i rifiuti. Quindi esisteva addirittura un testo che ti diceva di non fare quell'operazione che probabilmente ti era venuta in mente di fare. Questi sono i risultati dell'esperimento. Il testo più neutro, quello in cui si chiede di visitare il museo, quindi aprire il mese delle belle arti, ha ottenuto che il 25% degli utenti hanno gettato in terra del volantino. Come vedete la percentuale scende sempre di più, sempre in corrispondenza della non neutralità del testo, fino ad arrivare al 10% quando c'è scritto proprio il contrario di quello che si deve fare. Non so se è chiara fino adesso questa cosa qua, ma le implicazioni sono queste, che i volantini con un messaggio non normativo, quindi che non avevano nessuna relazione tra il buono, il cattivo, il giusto e il sbagliato, erano meno efficaci nell'influenzare il comportamento. Quindi più concreta la regola è più efficace. In termini psicosociali questa cosa qui si chiama priming, che in inglese significa una cosa tipo accensione o attivazione cognitiva e qui sta la stimolazione cognitiva, cioè il nostro cervello è stimolato e attivato dalla lettura di testi, idee o concetti. Più è rilevante la prossimità semantica, quindi la vicinanza semantica, più è efficace l'attivazione. Quindi questo che significa? L'esperimento di Cialdini ci porta a dire che le regole sono più efficaci quando arrivano nel momento giusto, in questo caso nel momento in cui l'utente della libreria sta per decidere se gettare il volantino oppure no. Questa è l'evidenza più forte, le regole non sono sempre efficaci, quindi se voi leggete una regola del codice di comportamento e poi siete chiamati ad attuarla dopo una settimana, può darsi che non ce l'avete in testa quella regola, che non vi servirà averlo letto, ma vi servirebbe molto più probabilmente un'attivazione nel momento cognitivo, nel momento in cui voi state per prendere una decisione che implica la violazione o l'adeguamento a quella regola del codice di comportamento. Chiaro che questo è molto più difficile dal punto di vista organizzativo. Le implicazioni per un'amministrazione sono le seguenti, è importante che l'amministrazione non solo stabiliscano regole e le comunichino, ma che assicurino anche che siano attivate al momento giusto per orientare i dipendenti nella giusta direzione. Quindi questo è importante perché quando mettete in piedi i corsi di formazione, se siete formatori o se siete responsabili della formazione, ma anche come utenti della formazione, state attenti perché i corsi di formazione sui codici di comportamento sono spesso solo un bombardamento di stimoli decontestualizzati, c'è qualcuno che vi racconta un sacco di regole su che cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. In realtà i corsi, e lo vedremo bene nella formazione valoriale, sul codice di comportamento vanno fatti in modo tale da trasferire queste regole di comportamento all'interno dei casi concreti, in modo tale che le persone possano agganciare, e qui sta la stimolazione cognitiva, le regole a un contesto, a una singola attività. Concetti astratti infatti come integrità, professionalità, sostenibilità, non sono facilmente traducibili nell'agire quotidiano e nelle scelte, qui stiamo nell'etica delle scelte. Quindi per esempio la sostenibilità è un concetto che può essere sicuramente trasferito attraverso la formazione, ma bisogna collegarlo alle scelte singole che fanno i dipendenti in comportamenti tipo il riciclo dei materiali usati, quindi tutta la questione delle stampanti, dei toner, della carta per esempio, la carta riciclata, differenziare la raccolta. Questo è un processo di progressiva attivazione di stimoli cognitivi che spesso si fa fuori dalle aule di formazione, ma nel confronto quotidiano con le persone. Quindi le regole vanno rese note nel momento in cui servono, ricordiamo sempre che non stiamo parlando delle persone che ci hanno chiaro tutto, hanno chiaro perfettamente che non bisogna gettare i volantini per terra, ma se fosse vero questo, allora l'Italia sarebbe un paese tipo la Svizzera, invece quando io esco da casa a Roma, vivendo in periferia, mi rendo conto che forse le persone non ce l'hanno tanto chiara questa regola, visto poi quello che vedo io per strada. Quindi vanno ricordate le regole nel momento in cui servono. Quindi il primo esperimento dimostra che le persone spesso si perdono quando sono chiamate a scegliere e ad applicare una regola. Gestire l'integrità quindi significa che i dipendenti non devono essere abbandonati a loro stessi nel momento della scelta. Questa è la stimolazione cognitiva, ma la stimolazione può essere anche di un altro tipo, la cosiddetta stimolazione valoriale. Vi invito a riflettere sul titolo che la ricercatrice in questione, Mazar, ha scelto per titolare la sua ricerca, la disonestà della gente onesta. Ed è molto significativo perché in molti casi noi osserviamo persone onestissime, astratte dal proprio contesto di riferimento, hanno un comportamento irreprensibile, ma inserite all'interno di un altro contesto diventano poco oneste in qualche maniera, scelgono di fare cose che magari non farebbero. Quindi la stimolazione cognitiva di cui abbiamo parlato fino adesso è importante, ma è anche importante quella che noi chiamiamo la stimolazione valoriale o emotiva, dipende un po' da che punto di vista lo vediamo. Proviamo a vedere questo esperimento che è un po' più complicato, ve lo anticipo, quindi seguitemi un po' su come è strutturato l'esperimento. Ci sono dei partecipanti che devono completare più esercizi possibili in 4 minuti, si tratta di un esercizio di tipo matematico, quindi a questi partecipanti è stato dato un tempo ridotto, quindi uno stress. Ogni domanda era una lista di 12 numeri sotto il 10 con due decimali e i partecipanti dovevano trovare due numeri che sommati tra loro facessero 10, quindi immaginate che all'interno di questa lista di numeri solamente alcune combinazioni facevano, la somma di alcune combinazioni faceva 10, la risposta possibile era una sola, 3, cioè c'erano solo 3 combinazioni che soddisfacevano quell'esigenza, ma i partecipanti questa cosa non la sanno, cioè che la risposta possibile è solo 1, loro non la sanno. Ai partecipanti i partecipanti avrebbero ricevuto 10 dollari, quindi viene dato un incentivo, questo è importante ricordarsi. Ecco le variabili, che sono due variabili, a metà dei partecipanti viene chiesto di scrivere il titolo di 10 libri che avevano letto, stimolazione neutrale, 10 libri è una stimolazione neutrale, all'altra metà viene chiesto di scrivere i 10 comandamenti, stimolazione valoriale, perché? Perché ai 10 comandamenti noi associamo tutti più o meno i valori condivisi della nostra cultura di riferimento in qualche maniera. Altra variabile, a metà dei partecipanti il compito sarebbe stato corretto dai ricercatori, quindi in questo caso non c'è la possibilità di imbrogliare, all'altra metà sarebbe stato chiesto di autovalutarsi, in questo caso c'è la possibilità concreta che le persone possano imbrogliare, possano dare un risultato maggiore rispetto a quello che effettivamente hanno ottenuto. Se è chiara questa lista di variabili, vediamo i risultati, quindi cosa accade al gruppo che si era autovalutato e che quindi aveva la possibilità di imbrogliare, di questo gruppo degli autovalutati, perché sono quelli che ci interessano, la metà del gruppo a cui era stato chiesto di scrivere il titolo dei 10 libri hanno affermato di aver risposto a più di 4 domande, che era chiaramente un imbroglio, mentre quelli a cui era stato chiesto di scrivere i 10 comandamenti, sono stati onesti, hanno risposto che avevano trovato solo 3 domande, cioè la risposta giusta, che era in linea anche con quanto avevano risposto gli altri, quindi questo dimostra secondo l'esperimento che in qualche maniera nel momento in cui sono messo di fronte all'opportunità di imbrogliare, se c'è un'attivazione valoriale, se io scrivo per esempio, sono chiamato a scrivere i 10 comandamenti, ho un richiamo valoriale, mi blocco rispetto alla disonestà, cioè mantengo una certa onestà, quindi Mazzaro ha osservato che scrivere i 10 comandamenti ha acceso la consapevolezza dei partecipanti sul loro senso di onestà, non era importante se questi avevano scritto correttamente i 10 comandamenti, alcuni non se li ricordavano, ma la semplice attivazione, quindi questo è un priming emotivo, un priming valoriale, la semplice attivazione di questo ha fatto in qualche maniera, ha controllato il comportamento dei partecipanti a questo esperimento, quindi non è importante solo sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma anche pensare per un istante è significato di onestà nel momento della tentazione, si tratta di una stimolazione di tipo valoriale, attiva l'immagine del sé collegata all'onestà e all'affidabilità della persona, se voi avete partecipato alle pillole di integrità, avete notato quanto io abbia insistito molto e enfatizzato sulla combinazione di due approcci, un approccio basato sulle regole, quindi sull'attivazione della stimolazione cognitiva, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, l'altra era un approccio basato sui valori, quindi l'attivazione del cosiddetto spazio etico delle persone, cioè di quello che è giusto e sbagliato per le singole persone, l'attivazione a livello valoriale. Quindi queste due cose le ritroviamo in questi esperimenti, nel senso che per far funzionare, per far scegliere eticamente delle persone si deve investire su tutte e due questa tipologia di stimolazione cognitiva e valoriale, quindi le implicazioni per un'amministrazione sono le seguenti, è cruciale attivare la parte valoriale dei dipendenti, ad esempio attraverso simboli, rituali, segnali, per fare un esempio alcuni dei responsabili di prevenzione della corruzione mi hanno detto che avevano messo una campagna interna di comunicazione basata su dei poster, cioè dei poster che avevano due livelli di stimolazione, stimolazione cognitiva su ciò che era giusto e ciò che era sbagliato fare, basata sui codici di comportamento, però anche una stimolazione valoriale legata proprio al significato, al senso del lavoro e dell'etica professionale del dipendente pubblico. Tutte e due però sono importanti, la cosa da cui stare attenti è che non bisogna esagerare con la stimolazione valoriale, perché sono tutte quelle pratiche, ad esempio prima di iniziare una riunione ricordare qual era il significato di alcune regole, oppure da parte della dirigenza ricordare sempre i valori e principi che hanno orientato una scelta, se si esagera su questo si rischia un pochino di andare all'opposto, cioè di rendere questa cosa qui un po' stucchevole, bisogna farlo con una certa intelligenza e soprattutto è compito della leadership, ne parleremo più ampiamente nel prossimo webinar. Il terzo esperimento si chiama Il nome dei comportamenti, questo è molto interessante perché secondo me ci riguarda molto, l'italianità che c'è in noi uscirà sicuramente fuori. E come noi etichettiamo i comportamenti? In qualche maniera, a seconda di noi come li etichettiamo, se in qualche maniera usiamo degli eufemismi o gli cambiamo proprio il nome ai comportamenti, li rendiamo più accettabili, sia per noi che li poniamo in essere, sia per gli altri. L'esperimento è di Lieberman, i nomi dei comportamenti rappresentano un potente messaggio di cosa sia accettato o accettabile e possono orientare il comportamento delle persone. quindi vediamo qual era l'esperimento. Lieberman condusse un gioco avendo selezionato due gruppi di partecipanti, a metà a un gruppo venne detto che stavano giocando a Wall Street Game, quindi con una connotazione fortemente basata sulla finanza americana e quindi sul concetto di competitività, mentre l'altra metà fu detto che giocavano a Community Game, quindi fortemente orientato alla comunità e quindi alla solidarietà e all'inclusione, quindi al cooperativismo. Ma i giochi erano esattamente gli stessi, Lieberman gli aveva solo cambiato il nome. Prima di farli giocare, i ricercatori analizzarono il livello di competitività e di collaborativismo dei singoli partecipanti, per fare in modo che ogni gruppo avesse la stessa quantità di competitivi collaborativi. Cosa osservò Lieberman? Che dei partecipanti che giocavano a Wall Street Game, cioè al gioco competitivo, quasi due terzi mostravano un atteggiamento competitivo, quindi anche quelli che in realtà erano tendenzialmente cooperativi, solo perché il gioco si chiamava in una certa maniera diventarono anche loro competitivi, mentre quelli che giocavano a Community Game solo un terzo mostrava un atteggiamento competitivo. Quindi questo esperimento ci dice una cosa che ci serve in realtà, è un esperimento abbastanza banale, ma ci serve secondo me per attivarci rispetto a una questione invece molto importante e molto interessante anche per quello che sta succedendo attualmente in Italia. Quindi l'uso di eufenismi smonta il significato dei comportamenti non etici e le loro connotazioni morali. Per esempio la corruzione spesso diventa ugliare meccanismi, ma veramente poi ogni dialetto probabilmente avrebbe la sua, anzi vi invito se siete interessati a trovare tutti gli eufenismi attraverso cui noi in qualche maniera definiamo un comportamento corruttivo in violazione delle regole di comportamento, ce ne sono infiniti, però ve ne indico alcuni altri che non riguardano solo la… per esempio dormire, non so se a voi mi è mai capitato, ma a me è capitato di osservare delle scene in cui dei funzionari pubblici purtroppo dormivano anche di fronte al pubblico, veramente molto raramente per fortuna, però per esempio certe volte ho sentito dire che ci serve per ricaricarci, avere un momento per sé, altre situazioni tipiche sono per esempio come si viene eufenizzato il termine bullismo che diventa per esempio prendere in giro, in qualche maniera diventa addirittura un'attività sociale. Quindi etichettare in maniera diversa i comportamenti li rende più accettabili, smorza in qualche maniera le implicazioni morali ed etiche di quel comportamento, lo rende più accettabile sia per chi lo fa sia per chi lo osserva, invece bisogna chiamare le cose per quello che sono, non avere paura di etichettarle quando le cose sono sbagliate in qualche maniera. Però questo è importante per farvi capire come spesso il nome che noi diamo alle cose orienta il comportamento, sia nostro, quindi lo giustifica, è una manipolazione che noi operiamo, sia nei confronti nostri sia negli altri. Passiamo al quarto esperimento, forse qualcuno se la ricorderà questo termine, ipengiofobia, cioè la paura delle regole, ipengios significa responsabilità, fobia, paura, ne abbiamo parlato molto nelle pillole di integrità e credo abbia suscitato anche particolare interesse, potrebbe essere la malattia del futuro e del presente e del futuro del dipendente pubblico, cioè il fatto che è sommerso da questa mola enorme di regole e non sa districarsi rispetto a questo. Qual è il principio da cui si parte? Che le regole è chiaro che producono certezze, noi non siamo contro le regole, bisogna essere molto chiari su questo perché l'altra volta c'è stato qualcuno che ha equivocato, io non sono contro le regole, io ho due bambini piccoli e se non ci fossero le regole io salterei per aria, salterebbe per aria tutta la casa, quindi le regole producono certezze, questo è chiaro e sacrosanto, ma troppe regole però producono incertezze, quando ci sono troppe regole le persone cominciano ad avere paura di infrangerle, quindi le persone cominciano essere ossessionate dalle regole, questa è una cosa che noi osserviamo tutti i giorni, soprattutto in Italia dove c'è una proliferazione, io qualche modo l'ho chiamato il delirio normativo, quindi le regole diventano l'unico obiettivo, le pratiche sono svolte seguendo tutte le procedure e questa è l'unica cosa che conta, quindi l'unica cosa che conta a volte è seguire bene la procedura, non conta se ha senso quella scelta che sto operando oppure no, ma se quella scelta è operata secondo la giusta procedura, in questo modo come potrebbero capire le persone smettono completamente di pensare. Kat Nevon, un israeliano, fece un esperimento su questo, analizzò il livello di dettaglio delle regole di 47 dipartimenti di diversi ospedali israeliani e raccolse dati per ogni dipartimento in merito al numero di incidenti che avvenivano ogni anno durante le operazioni e altri trattamenti, cioè il suo obiettivo era mettere in relazione il livello e il dettaglio di regole, quante regole ci sono e come sono fatte queste regole con il numero di incidenti che si evidenziano ogni anno. Quindi la prima cosa che conservò Kat Nevon è che nei dipartimenti con poche regole era stata rilevata una media di 13 incidenti, aumentando un po' le regole diminuivano gli incidenti, quindi erano arrivati a 9 incidenti all'anno, questa sicuramente era una buona notizia, cioè le regole sono utili e questo era per rassicurarci, le regole servono, ci stanno e servono, ma all'aumentare significativo delle regole anche il numero di incidenti progrediva ad una media di 21. Quindi le regole funzionano quando sono poche, quando cominciano a essere tante cominciano a non funzionare più, non essere più utili, mandano in confusione le persone. La relazione non è lineare, ma è curvilina e ve la faccio vedere, è questa qui, si parte con una bassa presenza di regole dove si intersega l'asse delle scisse e delle ordinarie per salire man mano che le regole cominciano a essere il giusto numero, fino ad arrivare a un punto di massima chiarezza, ma poi questo punto di massima chiarezza, quando le regole diventano troppe, come vedete diventa quasi zero, la chiarezza scompare e le persone vanno in difficoltà. Qui è più chiaro perché oltre alla parte positiva c'è anche la parte negativa, vedete la parte a destra nel dominio dell'incertezza, quando le regole cominciano a essere veramente troppe, quando siamo sotto a quello che ho chiamato il delirio normativo, cominciano a verificarsi fenomeni di repulsione e in questo senso l'ipengiofobia, la paura di assumersi di una responsabilità, perché? Perché non si capisce a quale regola bisogna rispondere, quindi le persone sono in qualche maniera congelate all'interno di una tipica ansia che noi osserviamo spesso e volentieri negli amministratori pubblici. L'altro è la nuova indipendenza, che vuol dire la dipendenza dalle regole, perché l'altro effetto collaterale è che alcune persone vanno in dipendenza da regola, cioè non possono vivere senza le loro procedure, le loro regole, quante persone conosciamo in questo modo? Ipengiofobia, la paura delle regole, quindi il problema dell'ipengiofobia cresce, queste sono le implicazioni all'interno dell'amministrazione, se la componente dirigenziale pensa di poter risolvere i problemi stabilendo altre regole, noi soprattutto in Italia abbiamo un brutto vizio, quando qualcosa non funziona e questo vale a livello nazionale al Parlamento, anche alla gestione veramente familiare, dei figli o dell'economia familiare, quando succede qualcosa che non funziona, noi subito siamo lì a dire dobbiamo fare subito una legge, dobbiamo fare una regola, ma non si risolvono i problemi così, questo ve lo posso assicurare, nel senso che non è che aumentando il numero di regole automaticamente si risolvono i problemi, si risolvono in un'altra maniera, però qual è l'elemento di conforto che ci dà la regola? La regola in qualche maniera è come una specie che ci fa placare l'ansia, l'ansia dell'incertezza, siccome non siamo in grado di governare questa incertezza, che purtroppo invece c'è ed è sempre più complicato, allora pensiamo che una regola ci può risolvere il problema, abbiamo fatto nella pillola di integrità un esempio molto chiaro per esempio con il preside, con il dilemma del preside, se qualcuno di voi se lo ricorda, quello era un tipico caso in cui nel momento in cui si fronteggia la difficoltà, si fa subito riferimento a una regola, si stringe su una regola, quindi le regole aumentano la paura dei dipendenti, ma la cosa peggiore è che comunicano sfiducia nella capacità dei dipendenti, si mettono le regole e le regole governano tutti, non solo quelli che si comportano male, ma anche quelli che si comportano bene, siccome le persone non sono tutte uguali, ci sono anche persone che hanno posizioni etiche salde, stabili, persone che comunque non hanno bisogno di regole, il fatto che comunque vengano governati dalle regole abbassa il loro senso di autostima e si sentono in qualche maniera che i loro superiori provano una certa sfiducia nei loro confronti e questo è un processo difficilmente arrestabile perché è autorinforzante, ci è capitato di osservare che in alcune situazioni per esempio i dirigenti determinano persino come i dipendenti dovrebbero vestirsi, questo è il momento in cui c'è un certo delirio in qualche maniera. Per le amministrazioni la sfida è trovare quindi il giusto equilibrio tra regole e responsabilità personale, fatto salvo che il principale elemento di destabilizzazione, l'abbiamo detto, è il proliferare a volte inconsapevole della regolamentazione di scala nazionale e sovranazionale, quindi tagliare, adesso si usa questa parola semplificare, il numero di regole e procedure, per esempio semplificare è un po' come riforma e innovazione, sono tre parole a cui io non do più nessun significato finché non vedo effettivamente un risultato tangibile, se ne parla da 20 anni semplificare, riforma e innovazione, tre parole che io non utilizzerei quando le vedrei applicate, in questo momento non le utilizzerei, infatti la metto tra parentesi semplificare perché non ne colgo ancora, nonostante la grande enfasi che c'è, non ne colgo ancora il valore, non ne colgo più il valore, quinto esperimento, ne mancano ancora due, quinto, sesto e settimo, abbiate ancora un po' di pazienza poi ci fermiamo due minuti per le domande, la teoria della reazione, la affiancherei alla teoria della stimolazione cognitiva perché vanno un pochino di pari passo, però è molto interessante perché riguarda una questione che anche qui ci tocca molto come italiani e quando, non so se avete mai fatto caso, quando nei cartelli c'è scritto è severamente proibito fumare, perché non basta dire è proibito fumare, bisogna dire è severamente proibito fumare, ma se una cosa è già proibita come fa a essere severamente proibito? C'è qualcuno che l'ha studiata queste forme di comunicazione un po' assurde, un po' paradossali, Penbaker e Sanders hanno lavorato su gli American graffiti, cioè su come gli effetti dell'autorità sulla cosiddetta reactance o la generazione di una reazione. Le regole di un'organizzazione possono essere vissute a volte come opprimenti e o intimidatorie, spesso non tanto per il loro contenuto, ma per come vengono veicolate, è severamente proibito, non tanto perché ti ricordano una cosa, perché saremmo nell'addominio cosiddetto dello stimolo cognitivo, allora sarebbe corretto ricordare alle persone che non bisogna fumare, ma come te lo dicono? Te lo dicono con un'enfasi, con un tono intimidatorio, a volte opprimente, in alcuni casi addirittura vengono vietate accesso ad esempio a social network, quindi in questo caso oltre a effetti collaterali, quali l'ipengiofobia, si possono verificare anche fenomeni che io chiamerei di boicottaggio, cioè che il fatto che queste regole vengono poste in questa maniera, le regole abbiano poi un effetto boomerang, si rivoltino contro chi le ha prodotte. Penbaker & Sanders, infatti, decisero di scoprire che effetto avesse il proibire sul comportamento delle persone. Considerate che l'effetto del proibizionismo sulle persone è una delle cose più studiate negli ultimi cento anni, da quando in America ci fu il proibizionismo, quindi ormai queste cose dovrebbero essere piuttosto note nelle organizzazioni e invece io vedo, osservo continuamente che queste pratiche vengono continuamente messe in atto, nonostante ormai sia abbastanza noto a tutti che non funzionano. Quindi loro posizionarono due diversi segnali nella tua letta di un'università americana, da una parte un segnale riportava do not write on the wall, scritto in maiuscolo in maniera piuttosto intimidatoria, mentre l'altro diceva semplicemente please do not write on the wall, quindi per favore non scrivete sui muri, in maniera un pochino più, insomma meno intimidatoria e soprattutto in entrambi i casi non veniva fatta alcuna menzione della sanzione, che vuol dire che era semplicemente il tono con cui venivano dette queste cose. I ricercatori evidenziarono che intorno al primo segnale do not write on the wall c'era un numero significativamente più alto di graffiti, cioè i ragazzi avevano avuto una reazione contraria alla regola, avevano scritto molto di più sotto la regola intimidatoria e quello che gli inglesi chiamano le regole creano i trasgressori, rules create offenders, dicono loro, è una cosa che noi anche in Italia osserviamo, Jack Bram sviluppò proprio su questo la cosiddetta teoria della reazione, è una teoria molto interessante, se avete tempo e voglia andatevela a rileggere, è anche una teoria che segue un certo senso comune, che quando le persone sono in qualche maniera oppresse o si opprime dal loro senso di libertà, si determina una reazione, più le persone si sentono in grado di decidere ciò che è giusto o sbagliato, più le persone hanno coltivato uno spazio etico proprio, più le persone sono in grado di capire quello che è giusto e che è sbagliato, di avere una posizione etica sulle cose e allora meno sono in grado di accettare in posizione intimidatoria sul comportamento da tenersi, questo perché come dicevo prima le persone non sono tutte uguali, le regole soprattutto quelle intimidatorie vanno bene con una certa categoria di persone, cioè quelli che magari sono dipendenti dalle regole, quelli che senza le regole non saprebbero cosa fare, quelli che senza le regole si comporterebbero sicuramente male, ma non vanno bene per tutta l'altra categoria di soggetti che magari hanno una propria posizione etica strutturata, quindi le implicazioni per l'amministrazione sono occorre sempre avere presente con chi abbiamo a che fare, capire bene quando è il momento di porre una regola con quel tono intimidatorio, in alcuni momenti potrebbe andare bene, quando ho di fronte una platea di beneficiare di queste regole che in qualche maniera mi fa capire che non c'è spazio per la discussione a livello etico, che in qualche maniera le violazioni sono diventate una specie di rituale, sono diventate una prassi organizzativa, in quel caso allora va bene mettere le regole anche in maniera intimidatoria, ma se siamo di fronte a persone che sono in grado di scegliere o hanno bisogno semplicemente di essere accompagnati ad una scelta, quelle regole sono mortali, quel tipo di regole sono mortali, perché provocano un boicottaggio che può essere latente o palese, invece di avere poi dei comportamenti positivi, probabilmente avremo dei comportamenti di violazione. Questa è una brevissima, è uno sketch che facevano i Monty Python, forse qualcuno di voi se lo ricorda, sulla stupidità delle regole, John Cleese che era uno di questi di Monty Python che ha fatto anche un pesce di nome Wanda, quel tizio alto, recita la parte di un giovanotto che vuole entrare in un casino, il butta fuori rifiuta di farlo entrare perché non indossa la gravatta e dice le regole sono regole, dopo un po' Cleese ritorna indossando una gravatta e di nuovo il butta fuori non lo lascia entrare perché la gravatta era troppo corta e di nuovo dice le regole sono regole. Passa qualche minuto e Cleese finalmente si presenta di nuovo all'entrata con una gravatta normale ma nessun altro vestito addosso e siccome non c'erano altre regole il butta fuori e lo fa entrare, questo era semplicemente per stemperare diciamo, non so se l'avete visto, se l'avete visto è molto meglio di come l'ho raccontato io ovviamente. Sesto esperimento, ciò che accade è la regola, siamo in gli ultimi due esperimenti molto importanti, molto secondo me interessanti perché ci descrivono molto approfonditamente il comportamento umano al di là dell'individuo, di come l'ambiente in effetti conta e conta tantissimo. Cialdini, ritorniamo a Cialdini, quello del primo esperimento perché infatti abbiamo un esperimento piuttosto simile, che significa ciò che accade è la regola, cioè che le aspettative legate a un comportamento desiderabile spesso sono scritte come abbiamo visto in un codice di condotta, però nella pratica alcuni fattori come per esempio l'ambiente fisico circostante possono orientare il comportamento delle persone, vediamo come. Cialdini osservò il comportamento di alcuni visitatori di un ospedale americano, quindi immaginate il parcheggio di un ospedale americano, al ritorno sempre con la solita storia dei volantini, mise sul parabrezza alcuni volantini, sul volantini c'era scritto un unico testo, è la settimana dell'automobilista, per favore guida con cautela, in questo caso non è tanto la scritta la cosa importante, bensì l'ambiente circostante, c'è da capire che non c'erano contenitori per l'immondizia nelle vicinanze. Allora che fece Cialdini? Metà dei visitatori li fece trovare in un parcheggio pieno di volantini, cioè un parcheggio sporco in cui c'erano tutti i volantini per terra, ma non solo volantini, anche contenitori di bevande, quindi un ambiente degradato, all'altra metà li fece trovare un parcheggio perfettamente pulito, quindi i visitatori dell'ospedale dovevano prendere la decisione scelta, etica, di buttare per terra i volantini oppure di tenerseli in macchina. Quindi Cialdini osserva una cosa abbastanza di senso comune, cioè che nel parcheggio pulito solo il 14% dei visitatori gettava il volantino per terra, mentre in quello sporco il 32%. E fino a qui siamo tutti d'accordo, nel senso che ognuno si sarebbe aspettato questo, però c'è una cosa in più che Cialdini ha voluto fare, inviarono un falso passante a gettare in piena vista del partecipante all'esperimento un volantino a pochi metri del visitatore, cioè questi signori che dovevano scegliere tra gettare il volantino e ottenerselo, osservano un falso passante gettare esso stesso un volantino per terra. Dopo che hanno osservato questo, i visitatori che gettano il volantino diventano 54%, quindi che significa? Come lo interpretano i ricercatori questa situazione? Che noi come esseri umani leggiamo le regole in due maniere, una maniera ingiuntiva, cioè indiretta attraverso le regole, in questo caso non si getta per terra la carta, però poi c'è tutta un'altra maniera di leggere le regole che è la cosiddetta maniera descrittiva, diretta attraverso quello che vediamo fare agli altri, quindi da una parte c'è una regola scritta o non scritta che noi sappiamo, non si getta la spazzatura per terra, dall'altra parte c'è una regola descrittiva che dice, è vero non devo gettare per terra la carta, però sto osservando che qualcun altro fa esattamente l'opposto, quindi le persone sono influenzate non solo da come le cose dovrebbero essere, ma anche da come sono effettivamente nella realtà. Le implicazioni organizzative di queste sono molto importanti perché in un ambiente sporco la regola descrittiva, osservo quello che le persone fanno, è che è accettabile gettare immondizia per strada, è accettabile per varie ragioni, perché qualcuno tanto pulirà o perché si hanno cose più importanti da fare che cercare un contenitore, immaginiamo, oppure perché qualcuno vi potrebbe dare del matto se cercate un contenitore in una situazione degradata, quindi la regola descrittiva in realtà non altera il fatto che esiste anche una regola ingiuntiva, le due regole convivono, ma sono confliggenti, quando le regole descrittive e ingiuntive confliggono la questione è quale delle due prevale e purtroppo normalmente, come spesso osserviamo soprattutto nelle nostre strade, prevale la descrittiva, cioè è più forte la regola che viene fuori dall'osservazione di quello che fanno gli altri rispetto alla regola ingiuntiva di sapere che una cosa è giusta o sbagliata. Quindi l'implicazione per l'amministrazione è la seguente, il messaggio è che vale la pena assicurare un ambiente pulito, sia letteralmente che figurativamente, soprattutto nelle piccole cose, cioè un ambiente confuso e sporco, non immaginate solo l'ambiente fisico, immaginate l'ambiente in generale, quindi la disorganizzazione causerà maggiore confusione e sporcizia, è autorinforzante perché le persone non saranno più tenute a comportarsi secondo la regola ingiuntiva, ma si comporteranno secondo la regola descrittiva e questo funziona anche al contrario, cioè se uno è di esempio attraverso un comportamento etico, gli altri si adegueranno, già perché la regola descrittiva è più forte anche al contrario. Ultima cosa, se dovete convivere con la disorganizzazione, almeno fatelo in maniera che ci sia una disorganizzazione organizzata, perché l'ultima evidenza che Cialdini ha trovato è che quando lo sporco era stato raccolto per esempio in tre grandi pile di volantini, cioè quando il degrado era stato in qualche maniera razionalizzato attraverso la costituzione di tre pile di immondizia, il grado, il numero, la percentuale dei visitatori che gettava il volantino per terra si è ridotto, quindi anche la disorganizzazione organizzata, e sto in qualche maniera pensando a tutti i quelli che in questo momento si stanno osservando la scrivania, vedendo che c'è un gran casino, però almeno le pile sono fatte più o meno in maniera giusta e ci si riesce a trovare, allora in qualche maniera rimaniamo tranquilli, scusate, ma io sono così, sono un disorganizzato organizzato, però non è tanto per dirvi come vi dovete comportare, ma per dire state attenti che questa cosa influenza il comportamento degli altri, se io sono una persona etica, praticamente orientato come credo di essere, per cui io penso di sapere cosa sia giusto e sbagliato, però ho dei comportamenti di confusione, di degrado in qualche maniera, anche nelle piccole cose, anche se questo non influenza il mio atteggiamento e il mio comportamento, perché io mi comporterò sempre al massimo dell'eticità, però questo può influenzare il comportamento di altri che non hanno la stessa capacità etica, non hanno sviluppato la stessa posizione etica, non hanno manutenuto il loro spazio etico, queste persone rischiano di andare un po' appresso a quello che io gli faccio vedere, per la questione della regola ingiuntiva e della regola invece descrittiva, questo è molto importante. Ultimo esperimento, forse il più noto di tutti, perché molti di voi forse lo conoscono, è la teoria delle finestre rotte, famosa perché? Perché a New York a seguito dello stabilirsi dell'amministrazione Giuliani nei primi anni 90, vi ricordate la questione della tolleranza zero? Una delle teorie su cui si basò l'amministrazione Giuliani era proprio quella delle finestre rotte, che dice la teoria delle finestre rotte? Si basa sull'assunto che quando una finestra in un palazzo è rotta e non viene riparata, la probabilità che una seconda finestra venga rotta aumentano, cioè in un palazzo con le finestre rotte, probabilmente intorno a quel palazzo attrae forme di criminalità che faranno aumentare in maniera ricorsiva il degrado intorno allo stesso palazzo e poi nel quartiere, quindi secondo la teoria delle finestre rotte, il degrado morale e sociale è un segno di accettazione maggiore di quel contesto dell'illegalità, cioè più c'è degrado morale e sociale, anche fisicamente visibile, nel senso delle finestre rotte, vuole dire che le persone che vivono lì hanno una soglia di non accettazione dell'illegalità diminuita, quindi sono più propense ad accettare atti di criminalità, è molto studiata questa teoria, nel senso che per esempio attraverso un'operatività di questa teoria, per esempio a New York in 10 anni si è passato a un livello di criminalità molto ridotta, però poi ci sono state anche molte critiche sulla rigidità degli interventi, però rimaniamo solo sulla teoria che a noi ci serve solo per spiegarci le cose, non tanto per applicarla poi al dato reale, se poi qualcuno vuole farlo va bene, però ci serve come modello esplicativo come dicevo prima. Questo è il ricercatore che se ne è occupato soprattutto negli ultimi anni, Kaiser, che fece un esperimento molto interessante, chiuse l'entrata di un parcheggio, immaginate il parcheggio di una grande area americana che ha due entrate, una di queste entrate Kaiser la chiuse, ma lasciò solo un piccolo spazio di 50 cm in modo tale che solamente una persona a piedi ci potesse entrare. Sulla recensione i ricercatori missero un segnale con scritto, ho proibito entrare, usare l'altra entrata che era distante 200 metri, quindi qual era l'effetto? Che l'autista che doveva prendere la propria macchina era costretto a fare 200 metri, questo chiaramente non era una cosa gradita in qualche maniera, però c'era questo gap, questo spazio di 50 cm che l'automobilista se avesse violato quello che c'era scritto sulla recensione avrebbe potuto utilizzare quello piccolo spazio per entrare nel parcheggio. Quindi Kaiser si chiese cosa avrebbero fatto gli autisti, avrebbero camminato per 200 metri o forse sarebbero entrati attraverso quel piccolo spazio. Ha voluto aggiungere una variabile che è la nostra variabile che ci interessa di più osservare. Missero i ricercatori anche un secondo segnale sulla recensione con scritto non agganciare le biciclette alla recensione e divise in due gli scenari, in un primo scenario c'erano 4 biciclette a distanza di un metro dalla recensione, quindi nel primo scenario i possessori delle biciclette avevano correttamente agganciato le biciclette a un metro dalla recensione, quindi avevano osservato la regola che stava scritta sulla recensione. Nel secondo scenario invece c'erano 4 biciclette proprio agganciate alla recensione, cioè in palese violazione della regola che stava scritta su quel cartello. Quindi nel primo scenario come si comportavano gli autisti che dovevano prendere la macchina? Osservando che c'era questo cartello con questi due diversi scenari. Nel primo scenario c'è 4 biciclette a un metro dalla recensione, cioè quando i possessori della bicicletta avevano rispettato la regola che c'era scritta, solo il 27% degli automobilisti passò attraverso il piccolo spazio. Quindi quando l'automobilista ha osservato che le persone avevano agito correttamente, una piccola percentuale, quindi un quarto di queste persone passa attraverso lo spazio, quindi abbiamo un quarto di irriducibili che nonostante abbiano visto che le persone osservano le regole, comunque decidono di violarla. Nel secondo scenario 4 biciclette agganciate alla recensione, cioè quando gli autisti osservano che i possessori delle biciclette avevano palesemente violato quella regola, allora in quel caso l'82% degli automobilisti passò attraverso quel piccolo spazio. Questo sta a significare cosa? Kaiser definì tre diverse situazioni, tre diverse motivazioni che influenzano il comportamento, cosiddette motivazioni normative, cioè comportarsi come si dovrebbe, le motivazioni edonistiche, comportarsi in un certo modo per sentirsi bene e le motivazioni di guadagno, comportarsi in un certo modo per migliorare l'attuale situazione. Se voi pensate all'esperimento, le motivazioni normative erano rispettare le regole che c'erano scritte sui cartelli, sia quella di non entrare nel parcheggio da quella entrata, sia quella di non agganciare le biciclette alla recensione. Ma poi questa motivazione normativa veniva messa in grossa discussione, veniva stressata dalle due motivazioni, edonistiche e di guadagno. Perché edonistiche? Perché la tentazione era quella di sentirsi bene, quindi feel good significa non fare 200 metri perché sono tanti, perché siamo alla fine di una giornata di lavoro, vogliamo prendere la macchina, la vogliamo prendere subito, tanto non c'è sanzione, chi se ne frega, passiamo per quel buco, feel good. L'altro è di guadagno, che più o meno ha la stessa idea, cioè di guadagnare qualcosa rispetto a quello che si ha in cui è. Allora, come avete visto, queste motivazioni sono in contrapposizione tra loro e non hanno lo stesso peso. La motivazione normativa, cioè quella delle regole, è purtroppo la più debole e viene combattuta dalle altre due motivazioni. I fattori ambientali relegano la motivazione normativa sullo sfondo, facendo emergere le altre motivazioni. Quindi, qual è la cosa che è uscita fuori? Che se si osserva che gli altri violano una regola, come ad esempio agganciare la bicicletta alla recensione, allora si farà meno attenzione anche alle altre regole, non passare per il piccolo spazio. La violazione delle regole, sia quando la motivazione normativa è indebolita, offrendo spazio alla motivazione etonistica e a quella di guadagnare. Il comportamento dei ciclisti che agganciavano le biciclette alla recensione in palese violazione della regola che stava scritta sul canale, è una cosa che è uscita fuori. Il cartello dava un lascia passare a coloro che in quel momento stavano scegliendo, in questo senso etica delle scelte, se osservare una regola o meno di essi stessi violare quella regola. Questo è molto importante. Per l'amministrazione ha un'implicazione fondamentale, non è una cosa banale, è una cosa su cui mi sto battendo da un sacco di tempo, anche in contrasto con molti accademici, illustri. Vi dico anche qual è il punto. L'esperimento dimostra come le persone imitano il comportamento degli altri anche quando osservano a violazione delle regole. Quindi nell'ottica preventiva di ridurre le violazioni, pertanto dovrebbe essere presa in seria considerazione anche la piccola, ogni singola piccola violazione e i loro effetti visibili dovrebbero essere velocemente trattati. Non so se è chiara questa cosa qui, perché spesso noi lasciamo passare le cose più banali, i comportamenti che tra virgolette sporcano il nostro ambiente, però non sono talmente invadenti, talmente fastidiosi che in qualche maniera ce la rendono più accettabile. Quello è un modo per, appunto, che quella finestra rotta genera poi la rottura delle altre finestre. Quando le persone osservano che alcune regole possono essere violate e non succede niente, sono naturalmente portate a violare anche le altre regole, anche quelle un pochino più difficili da violare. Questo è importante per tenere sotto controllo anche i comportamenti più piccoli, quindi per promuovere etica e integrità in un'amministrazione occorre un comportamento coerente, significa che se si vuole combattere la corruzione, quindi la macro, il problema macro, allora bisogna anche, non solo chiaramente, combattere comportamenti come l'intimidazione, l'aggressione, l'ostilità, cioè i comportamenti un pochino più piccoli, ma comunque importanti che in qualche maniera se lasciate andare, creano quel contesto che poi può portare anche alla corruzione. I comportamenti non etici sono difficili da isolare, non si può essere etici in relazione a una situazione e non etici in relazione a un'altra. Questo lo dico in contrapposizione ad alcuni che pensano che la corruzione va combattuta solo ai grandi livelli, cioè che chi se ne frega delle piccole violazioni dei codici di comportamento che invece andrebbero trattate separatamente, invece correttamente il piano nazionale e la 190 hanno messo insieme i codici di comportamento con la prevenzione alla corruzione. È un'operazione corretta, giusta, lo fanno tutti nel mondo, ma perché? Perché c'è sotto una serie infinita di teorie che lo dimostrano e la teoria delle finestre rotte è solo l'ultima. Quando si rompe una finestra nel vostro ufficio, figurativamente parlando, piano piano osserverete che anche le altre finestre si rompono e se a romperla il vostro dirigente vedete che se ne romperanno molte di più di quelle che pensate, perché alla teoria delle finestre rotte si associa la questione della leadership, del comportamento imitativo della leadership. Io mi fermo qua un attimo perché sono anche le 13.13 e non so se voi avete… ah quella delle percentuali volete rivedere. Certo, come no? Allora, eccole qua, queste sono le percentuali. Se avete qualche domanda, fatela tranquillamente perché abbiamo ancora una decina di minuti. Qualcuno ha scritto una bel domandona, aspettate, vi chiedo perché ho la sensazione che queste sensibilizzazioni valgono i dipendenti della BIA ma non valgono per gli amministratori grandi e piccoli. Sono stati i dipendenti piccoli? No, chiaramente, a creare lo scandalo o i big? E quando qualcuno ha denunciato poi ha avuto pesanti conseguenze sul suo posto di lavoro fino al licenziamento in questo momento, vedi l'angelo di… aspetta che mi sono perso… troppo è talmente lungo che… aspetta… immagino quello della Sardegna… l'angelo di… ah non riesco a vedere… di Carditello, il vigile urbano della terra dei fuochi, ricordate, io vi dico anche la funzionaria del Consiglio regionale della Sardegna che ha denunciato le malversazioni dei consiglieri regionali, il peculato e tutto quanto. Esatto, allora una cosa che devo forse fare all'introduzione ma che è chiaro che noi stiamo parlando, anzi ve lo faccio vedere subito perché così chiariamo subito questa cosa che per me è fondamentale. Noi per molto… tempo noi diciamo come Italia abbiamo avuto chiaramente… abbiamo osservato cose molto diverse. Allora, piano nazionale anticorruzione, tre obiettivi strategici, ridurre le opportunità che si manifestano nei casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Io vi sto parlando del terzo obiettivo, nel senso che è l'obiettivo di medio e lungo periodo che riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che non può essere visto, osservato, analizzato e praticato in assenza dell'attenzione necessaria che va posta anche ai primi due obiettivi. Noi però ci occupiamo del creare un contesto sfavorevole alla corruzione, cioè fare in modo che quelli che vi dicevo prima, i soggetti tra virgolette neutri che ancora non hanno sviluppato una posizione etica, si interrogano sul fatto di svilupparla e operano delle scelte etiche. Per fare questo, in qualche maniera, noi dobbiamo costruire un ambiente intorno che sia attento a tutte quelle singole cose di cui vi ho parlato e fra un po' vi parlerò anche di altre, però nel box qui in alto, ok, vediamo un po' se, solo che io non ho le domande nel box qui in alto, quindi o me le mettete o se no non lo capisco, ok. Allora, rispetto alle regole ingiuntive, allora, rifacciamo un attimo, era questa no? Ingiuntiva e descrittiva. Allora, qualcuno ha chiesto di rivedere le regole, l'esperimento in cui le regole si leggono in due maniere diverse, in una maniera ingiuntiva e indiretta attraverso regole scritte e non scritte di convivente. In questo esempio qui, di ciò che accade alla regola, ci sono due situazioni molto diverse. Allora, c'è una regola cosiddetta ingiuntiva, che gli psicologi chiamerebbero il superio, insomma, senza che scomodiamo troppo la psicologia, però è il censore interno, cioè qualcuno che dice dentro di te, questa cosa non si fa, gettare la carta per terra, non si fa, quella è una regola ingiuntiva, può stare scritta sui cartelli, può stare anche non scritta sui cartelli, se sta scritta sui cartelli c'è una stimolazione cognitiva che mi aiuta in quel momento a ricordare che esiste questa regola. Però poi esiste una lettura diversa che è la maniera descrittiva di leggere la regola, nonostante che io ho questo in testa, nonostante che io so benissimo che non si può gettare per terra la carta, nonostante che c'è un cartello che mi dice che le deiezioni canine vanno raccolte, poi osservo che qualcun altro davanti a me viola palesemente quella regola. Allora, la cosa che i ricercatori dicono è semplicemente questa, tra le due letture, la lettura in maniera ingiuntiva della regola e la lettura in maniera descrittiva, purtroppo è molto più potente la descrittiva, quella diretta, quello che io osservo fare agli altri, quindi quando io osservo il signore per strada che non raccoglie le deiezioni canine, nonostante sta sotto un cartello in cui c'è scritto per favore raccogliere, è obbligatorio raccogliere le deiezioni canine, è molto più forte lo stimolo che io ho nell'osservare che quella persona viola quella norma, piuttosto che il potente censore interno che mi dice di raccogliere. Ovviamente questo vale per quella categoria di persone, come vi dicevo prima, che non ha ancora una forte identità etica, una forte posizione etica, perché potrebbe capitare che voi osservate la stessa situazione e qualcuno vada da questo signore a dirgli guardi che questa cosa non si fa, quante volte l'avete fatto voi stessi, quando andate al bar e non vi fanno lo scontrino per esempio, a me mi conoscono dappertutto perché io appena vado al bar e qualcuno prova semplicemente a non fare lo scontrino, prima con un sorriso, ma poi con un certo rigore, l'invito invece a stamparmi lo scontrino, però io osservo in moltissimi casi, ed è questa la maggioranza delle persone che poi è chiamata a operare delle scelte e se sono dipendenti pubblici sono scelte in tutela dell'interesse pubblico, che si trovano invece dentro questa lotta tra ingiuntivo e descrittivo e che spesso questa lotta viene vinta dal descrittivo, non dall'ingiuntivo, non so se è chiaro adesso. Massimo, scusami se ti interrompo, se puoi leggo io alcune domande che sono state Benissimo, bravissimo. Sottana chiedeva all'inizio se per ambiente intendiamo il contesto relazionale e anche… Sì, allora il contesto relazionale, questo mi dà l'opportunità di farvi vedere le ultime due cose, perché il contesto relazionale, se tu… allora guarda ti invito, proprio perché non abbiamo tempo di strutturarlo in maniera molto forte, la gestione dei dilemmi etici che è una delle pillole di integrità, in cui io faccio la storia di questo Dottor Rossi, che si trova all'interno proprio di un contesto relazionale molto complicato e in cui in qualche maniera tendo a dimostrare che le relazioni all'interno di un gruppo schiacciano le persone e anche se le persone sono potenzialmente in grado di operare delle scelte etiche, le relazioni in qualche maniera li influenzano in maniera tale, in maniera così forte, invece da guidarlo verso una scelta non etica. La relazione io la metto dentro il contesto ambientale, all'interno di quello che noi chiamiamo accompagnamento, possibilità di discutere, ne approfitto per farvi vedere le ultime due slide in cui metto in chiaro un po' la conclusione di quello che abbiamo visto oggi, cioè le qualità etiche di un'organizzazione, fanno riferimento a queste sette virtù etiche, come le chiama Captain nel suo manuale, sono caratteristiche organizzative e ambientali in grado di orientare il comportamento delle persone verso scelte etiche. Oggi noi abbiamo, attraverso gli esperimenti che vi ho presentato, presentato solamente la prima, la chiarezza, immaginate che ce ne sono in infinità rispetto anche a tutti quanti questi altri che vedete. Senza che ve le dico, le potete un attimo visionare qui. Poi Paola, se ci sono altre domande, dimmele. Sì, Mattimo, allora, Leonardo Patrizia ci chiede alcuni semplici esempi di attivazione delle regole del codice di comportamento per chi le deve far affidare. Esatto, questa è una sfida, diciamo, perché immaginate, vi faccio l'esempio più banale, quello più stupido, quello più... Allora, articolo 11 del codice di comportamento, comma 3. Attenzione perché questa... Allora, che dice? La regola è sull'utilizzazione dei macchinari e delle dotazioni messe a disposizione dall'amministrazione. I dipendenti pubblici sono chiamati, sono tenuti ad utilizzare in maniera responsabile tutte le risorse messe a disposizione dall'amministrazione pubblica. Esempio tipico, una signora che lavora, una funzionaria pubblica che lavora all'URP, ha un libro che deve riconsegnare il pomeriggio in libreria. Non ha fatto le fotocopie, però ha letto delle pagine di questo libro che lo entusiasmano. Non sa come fare, l'unica cosa per fare è fotocopiarsi parte di questo libro. Che fa? Va davanti alla macchina fotocopiatrice, ok? Stimolazione cognitiva, c'è un cartello in cui c'è scritto la macchina fotocopiatrice non può essere utilizzata se non per scopi strettamente attinenti al proprio lavoro. Stimolazione cognitiva. Giusta perché nel momento in cui la persona sta prendendo quella scelta, se tu chiedi a una persona, ma tu la useresti la fotocopiatrice per cose tue, quello in un qualsiasi situazione normale ti direbbe di no, ma se è sottoposto a uno stress per cui o fa le fotocopie o quelle pagine non le vede più, faccio un esempio stupido, immaginate anche altre cose, può darsi che invece è attratto, vi ricordate il gain e il feel good, da fare comunque quelle fotocopie. Stimolazione cognitiva che sotto potrebbe recare il riferimento all'articolo 11,3 del codice di comportamento. Io non dico di tappezzare la vostra amministrazione con i cartelli, perché credo mi abbia fatto una domanda proprio in particolar modo sulla stimolazione cognitiva, però è questo modo di tradurre le regole in comportamenti quotidiani e stare attenti dove le persone effettivamente scelgono, dove le persone sono a rischio di comportamenti in violazione. Allora Massimo, ce ne sono moltissime di domande, una di Baldo chiede se puoi riprendere il concetto accennato di persone oneste che in altri ambienti diventano misonestri, che cosa incide questa trasformazione genetica? Se ne leggo una un'idea così, poi magari vedi tu come realizzarle. Io intanto, guardate, la cosa che posso impegnarmi a fare sicuramente, adesso Paola mi rimanda tutto il log con la chat e provare a scrivervi un'email a tutti voi per ogni domanda che mi avete fatto, un gruppo di domande. Sul fatto che le persone oneste divengano disoneste, la cosa che per esempio a me mi ha attivato e stimolato, poi e questo è un campo di ricerca talmente interessante, immaginate appunto quanto può essere… Però ecco, il titolo di questo libro, io sono talmente incuriosito che me lo rileggerei varie volte, La disonestà delle persone oneste. E' quello che vi dicevo prima, le persone prese e decontestualizzate, e non sono tutte uguali, hanno rispetto alla pressione che viene fatta dall'esterno, è una pressione di tipo organizzativo, però dentro ci metto anche la pressione relazionale, perché comunque fa parte della dinamica organizzativa. Spesso, se non sono supportate adeguatamente dall'organizzazione, possono tranquillamente deviare verso comportamenti disonesti. Per questa cosa qui vi invito sempre a leggere, a consultare la gestione dei diremmi etici, le slide sulla gestione dei diremmi etici, perché quella storia lì spiega in maniera, secondo me è molto esemplificativa, è molto, secondo me, chiara, come il contesto organizzativo influisce poi sulle persone, effettivamente, oltre a tutti questi esperimenti che abbiamo visto adesso. Allora, Marzio, mancano cinque minuti. Potremmo, potremmo magari rispondere su innovatori sia anche sulla comunità. Sì, sì, sì. La cosa che invito a fare, siccome noi abbiamo questo ultimissimo minuto, così chiudo, se avete domande, questioni, e magari le volete anche sviluppare, potete veramente scrivere un post su innovatori, che non solo io, ma anche tutti quanti gli altri possano commentare, perché questa è veramente l'attività della comunità che noi abbiamo cominciato a dare vita, è molto facile, ci si scrive un post, chiaramente non è una semplice domanda, un post è qualcosa di più, un ragionamento, qualcosa che però poi porta ad un'analisi, ad una richiesta di un confronto con gli altri. E poi, sia io, ma credo sia importante a questo punto, che tutta quanta, se è una comunità che sta per crescere, sta per nascere e vuole crescere, può cominciare a fare riferimento a questo. Immaginate che questo tipo di formazione che io porto avanti, cosiddetta formazione di contenuto generale con approccio valoriale, noi la stiamo sperimentando, stiamo facendo i primi esperimenti, e deriva però da una competenza, da una conoscenza, anche da un'esperienza che riguarda in particolar modo le pubbliche amministrazioni che io conosco, e anche e soprattutto le organizzazioni del terzo settore, dove questo tipo di contenuti sono fortemente analizzati e promossi nei confronti degli operatori, degli educatori, sociali, eccetera. Quindi sarebbe molto interessante creare un contesto all'interno delle PIA in cui i formatori direttamente inseriti all'interno delle pubbliche amministrazioni siano in grado di sviluppare contenuti, esempi, casistica, appunto selezione di esperimentazioni, di ricerche internazionali come abbiamo fatto noi oggi. Quindi se volete questa comunità potrebbe diventare esattamente questo, questo contenitore in cui voi e noi possiamo interagire per fare in modo che all'interno delle pubbliche amministrazioni crescano le conoscenze e le competenze su questo tipo di contenuti, che come potete ben notare è molto diverso dalla formazione che in questo momento regna. Allora, stiamo ai momenti dei saluti, ti stanno facendo tutti i complimenti. Grazie per la disponibilità. Ho messo in chat anche il link per il prossimo evento del 24 giugno su Daniele Sistetica e vi ho anche segnalato il link alla comunità integrità su Innovatori PIA. Un caro saluto a tutti, allora ci vediamo su Innovatori PIA, e buon proseguimento, alla prossima. Grazie, grazie a tutti. Grazie.